Amici di Bracemi ancora il mio soggiorno nelle langhe del Cuneese si sta rivelando ogni giorno più saporito e intrigante e l'altro giorno alla fiera del Buegrasso ho incontrato Dino, conosciuto Dino, un simpatico signore in pensione, ex coltivatore, ex ristoratore, mi ha invitato a casa sua perché lui realizza un salume davvero raro da trovare in giro, ovviamente ho accettato l'invito, sono venuto a casa sua perché voglio passare una giornata con questo signore che ha un sacco di cose da raccontarci e da farci assaggiare. Dino, sono arrivato, grazie dell'invito, ti comunico che non ho fatto curazione. Allora andiamo a farla adesso. Quindi ho fame. Andiamo a farla subito. Ok, andiamo. Questa è casa tua, tu vivi qua, panoramica a 360 gradi. Guarda la Bruna. Guarda chi c'è, curiosa eh? Bruna si chiama. Bruna. Ciao Bruna, come stai? Diciamo riservata, curiosa ma riservata. Ciao Bruna, portami, tu mi hai parlato della stanza del piacere. Adesso ti ci porto così vediamo se possiamo soddisfare le tue esigenze di appetito. Questo è il tuo laboratorio? Laboratorio. Ah, fantastico. Vedi le zucche, qua c'è un po' di grano, la farina per fare la polenta che è quella di otto file. Ok. Questa qua la produco io, la facciamo macinare col murino a pietra. Bello, bellissimo, bellissimo. Quindi... Lai mi sai che stai facendo qualcosa per gli animali, giusto? Qua stiamo facendo, sto facendo bollire l'orzo. Oddio che vecchia forma, che vecchia... Mamma mia. L'orzo, il mais, le zucche, le rape per dare alle mucche e alle galine. È una vecchia stufetta. È una vecchia stufa a quattro fori. Meravigliosa. Quanti anni c'avrà sta stufa? Sta stufa va, non lo so, 30-40 anni, se no di più. Pure di più. Andiamo giù? Andiamo, vieni. Bene. Mi accompagno. Allora, questo è il tuo cavo. Questo è il mio cavo. Bene. Fai tutto te. Tutti i saluti. Tutto io. Non dire come si chiama. Guarda, lo devono indovinare. Allora, ragazzi, noi siamo venuti qua per lui. Guardatelo bene. È un cosciotto? Si vede che è un cosciotto. È un cosciotto. È fantastico. Sono quasi emozionato perché è molto raro trovarli. Sì, queste cose qua. Dillo un po' cos'è, dillo te, dillo te. Questo è un violino? Un violino di capriolo. Prendilo un po', prendilo un po'. Un violino di capriolo. Fantastico. Ma ce lo possiamo assaggiare? Ce lo possiamo assaggiare. Andiamo su, che altro prendiamo? Andiamo. Prendiamo una di queste. Ok. Che è la salsiccia di maiale. Bello. E un bel salamino. Così almeno. Andiamo avanti, seguo, ti seguo. Andiamo. Ragazzi, questa è la tavernetta di Dino. Ora si fa merenda con tutti i prodotti di qua. Come la definisci sta merenda? La merenda sinoia. Sinoia. Tutti questi li hai detto? Tutti questi sono roba che facciamo noi. La salsiccia, il salame cotto. Qua c'è il formaggio stagionato. Sì, è proprio stagionato. Dieci mesi, anche due. Questo sì, è quello lì, il salame cotto. Salame cotto? Assaggia un po'. Senti, io non ci staccami più niente. Lo riprendiamo, lo rimettiamoci a riga. Fa massaggiare questo violino. Questo violino, eccolo qua. Violino di capriolo. Violino? E la coscia? E la coscia posteriore. E la coscia posteriore del capriolo. Come si prepara? Si prepara mettendolo sotto sale per 3-4 giorni e tutte le sere massaggiarlo. Poi lo tiri via dal sale, lo pulisci con un canovaccio, senza bagnarlo con acqua. E lo metti nel vino per altri 3-4 giorni, sempre con tutti i gusti delle erbe aromatiche che abbiamo qua in campagna. Quindi, dopo quei 3-4 giorni che è rimasto nel vino o rosso o bianco, a seconda, come ti piace. Tutto scuro, 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 scuro. E' scuro, perché questo è stato ammollato nel vino rosso. Ah, nel vino rosso. Ok. Lo tiri via e lo appendi. Dell'affumicatoio. Allo fumicatoio, prima lo marino. Ok, qua. Sì. Scusa, quanto impieghi a preparare il coscio di questi? Ci vuole 4-4-8 o una decina di giorni. 10 giorni? 10 giorni di lavorazione. Eh sì. Adesso già lo posso mangiare? Sì. Questo qui? Sì. Lo metti nell'affumicatoio per 4 ore. Non lo taglierà tanto. Fai fumo. Eh vabbè però. Poi lo metti nella stanza del piacere di sotto per una settimana almeno, due, da stagionare un po' e poi lo mangi. Allora, violino di cabriolo. Ragazzi, il gusto è selvaggio. Maledettamente selvaggio. Ci vogliono i denti di rimastricarlo. Eh. Però. Però. Mmm. C'è. Posso dire. Tanta roba. Eccolo qua. Un prodotto introvabile nelle salumerie. Questo non si trova, ragazzi. Vabbè, di, visto che stai in pensione, in teoria potresti mettere su pure un business. Si potrebbe pensare. Sei pronto con l'e-commerce? Ok? Però ti vedo bene. Allora. Io ti ringrazio per avermi aperto le porte di casa tua. B, mi hai fatto assaggiare tutte le tue leccornie, tutti i tuoi prodotti. Ti ringrazio. Abbiamo bevuto pure il vinello del contadino. Mmm. Che è ruspante. Il messaggio finale era quello rivolto ai giovani. Tu hai detto, Michele, io ti ospito a casa mia, ti apro le porte di casa mia, ti faccio assaggiare tutto. Il messaggio finale che voglio racciare è, tornate in campagna. Tornate in campagna, giovani. Cercate di fare delle realtà che vi diano la possibilità di realizzarvi e di vivere tranquillamente. I giovani hanno mille potenzialità. Quindi basta che ritornino un po' a cercare le mode vecchie. Però i giovani sono un po' restiti. Dici che sono pigri? Che hanno? No. A percepire queste cose perché adesso si compiutere. È la fine del mondo. È la fine del mondo. Come si fa? Vanno bene, io dico. Sì, vanno bene. Però tu lo sai che ti vedranno grazie ai computer? Sì, questo lo sai. Lo so. È per quello che ho detto che vanno bene. Allora, facciamo così. Ci vuole una mediazione. Ragazzi, tornate indietro. Rimaniamo con lo smartphone e il wifi in mano. I segnali di fumo li lasciamo a Dino. Da una parte è lo smartphone. Dove è il tuo telefono? Ce l'ha il tuo telefono? Sì, ce l'ho. Faccio vedere una chicca. Eccolo. Quindi, allora, noi rimaniamo con lo smartphone e il wifi. A Dino gli lasciamo. Che è questo? È un datterino? Il mio telefonino. L'ho chiesto datterino. Con il numero dietro perché io non me lo ricordo. Allora, vi faccio dire una cosa. No. Non lo facciamo, vede tutto? Allora, qui c'è il numero di Dino, ok? Perché non se lo ricorda. Quindi a Dino rimane con il datterino e i segnali di fumo. Noi con il wifi e lo smartphone, però facciamo marcia indietro e torniamo alle abitudini. Da una parte lo smartphone, dall'altra il violino di capriolo. Quindi meno Whatsapp, più Zap. Più Zap. Ok, perfetto. C'è una di diverse qualità, con il manico lungo, il manico corto, a punta quadrate di Whatsapp. Ok, tu non ce l'hai Whatsapp? Sì, ce l'hai. Quattro Zap. Va bene. Ragazzi, ok, fuori programma. Vi abbraccio ancora. Ora, grazie a Dino che ci ha ospitato a casa sua, grazie alla sua bella famiglia. Grazie a voi, mi raccomando. Tate la settimana. Seguite il mio consiglio. Seguite il tuo consiglio, seguite pure noi. Un abbraccio, che un abbraccio sia con voi. Ciao.